Tutto questo sinceramente mi fa davvero ridere. Ragazzi, ci sono novità riguardo Winnie the Pooh Bladenoni. Questo sarà un video davvero corto anche perché è il terzo della giornata, visto che ho già rilasciato la reaction al trailer di Avatar La Via dell'Acqua e la recensione in anteprima di Enola Holmes 2, che trovate comunque sul canale o qui nelle schede, ma non potevo assolutamente non parlare di queste novità riguardo questo film. Film di cui ho già parlato più di una volta sul canale, la prima volta quando è stato annunciato ad aprile o maggio 2022, la seconda volta quando è stato rilasciato il trailer o fatto la reaction. Anche questi video li trovate nelle schede e nel canale, ma adesso c'è giusto più di una novità importante. Le vedremo quindi in questo video. Prima di iniziare però come sempre vi invito a seguirmi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione assieme al link di Pampling, codice del Pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis, e non so perché la sto facendo in speedrun. È un video corto, rendiamolo ancora più corto. Se invece volete supportarmi gratuitamente, basta condividere il video con chi vuole essere informato su Winnie the Pooh Bladenoni, iscrivervi se non siete iscritti, attivare la campanella per non perdere i prossimi video, magari lasciare un like e fare qualche commento, ok? Questa è la famosissima possessione di Eminem. Ma quali sono quindi queste novità? Intanto quella più importante, secondo me, è la data di uscita. Infatti, finalmente abbiamo una data ufficiale. E ragazzi, ve lo dico anche in questo video, non fidatevi di Google, perché da settimane ormai arrivano sotto i video passati su Winnie the Pooh Bladenoni, arrivano commenti con scritto «Eh, ma arriverà ad ottobre?» Ottobre è passato, quindi no. «Eh, ma arriverà a dicembre?» No, ragazzi, non fidatevi di Google. Winnie the Pooh Bladenoni arriverà il 15 febbraio. E arriverà solamente per il 15 febbraio. Basta, solo un giorno nelle sale. Solo un giorno nelle sale e nemmeno in quelle italiane, sfortunatamente, perché il film verrà proiettato solo nelle sale statunitensi, messicane, canadesi e inglesi. Probabilmente il film fra qualche mese o qualche anno arriverà anche in Italia legalmente, grazie a Zia Midnight Factory, ma questa ovviamente è solo una mia speculazione, non prendetela come notizia ufficiale. Il 15 febbraio noi al momento non vedremo legalmente Winnie the Pooh Bladenoni. Seconda notizia, non è ancora uscito il primo film e già è in produzione il sequel. La produzione è iniziata in questi giorni, si sta svolgendo in questi giorni e vista la qualità del trailer e di conseguenza anche del film penso finirà anche in questi giorni. Vi giuro, in questo momento io vorrei trovarmi al posto di questi produttori. Troveranno la fortuna e molto probabilmente anche qualche soldino il 15 febbraio, perché di sicuro il budget è contenuto tra una moneta di 2 euro in America e un bottone, quindi non hanno speso tantissimo e guadagneranno che sia anche un milione per loro e già un grandissimo successo. Poi come già sta succedendo senza neanche aver visto il film, verrà odiato, ma a loro non frega assolutamente nulla. I soldi li hanno presi. Sono stati davvero dei geni e continueranno ad esserlo perché la terza e ultima novità riguardo non proprio Winnie the Pooh Bladenoni è che gli stessi produttori stanno anche lavorando ad un film horror su Peter Pan. C'è anche già un titolo, Peter Pan Neverland Nightmare, quindi Peter Pan incubo all'isola che non c'è, in pratica in italiano ma non penso verrà tradotto mai, non penso che arriverà appunto tradotto in Italia. E credo che ormai questi nuovi produttori faranno, continueranno a fare film da quattro soldi letteralmente, ma continueranno anche a guadagnare abbastanza. Quindi ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di tutte queste novità. Io non vedo l'ora di vedere Winnie the Pooh Bladenoni se arriverà mai qui in Italia legalmente. Fatemi sapere la vostra opinione con un commento qui sotto e niente, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e i link di Pampling, Codice Il Pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. E ragazzi, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale Andri passa e chiude. Ciao!